Rossini TV torna ad accendere le telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori. Oggi ci troviamo nella centralissima via Giordano Bruno, strada del centro storico che ospita la questura e che sfocia in piazza del popolo. Una strada e una questura che da tempo in membro sono adombrate da cantieri. Ora di lavoro si ne aggiunge un altro da questo mese di maggio, dal lunedì 2 in particolare. E' partita la ristrutturazione dell'edificio che vedete alle mie spalle del Civico 18. Ruspe al lavoro per una demolizione che ha però un effetto collaterale sintetizzato in questo segnale stradale. Quello di un'altra sottrazione di parcheggi, circa una dozzina per quello che riguarda la piazzetta compresa fra la via e il retro del mercato delle erbe. Un divieto di sosta che è cominciato questo lunedì e che durerà fino alle 31 dicembre, dal lunedì al venerdì fino alle ore 18. Sette mesi di divieto che naturalmente creano problemi ai residenti e alle attività che sono in questa zona. Residenti che, va chiarito, non contestano tanto la sosta quanto l'assenza di preavviso. Nessuno ha ricevuto comunicazione preventiva e solo ha apparso il cartello a pochi giorni di distanza dal via del provvedimento che ha data 29 aprile. Questa cosa ci è un attimino lasciati spiazzati perché non siamo stati preavvisati di nulla e ci dobbiamo arrangiare un po' per conto nostro a trovare dei parcheggi alternativi a questa cosa qua, quando per poter parcheggiare alcuni di noi hanno anche degli oboli, nel senso che il comune ci chiede di pagare un tot per poter accedere con le nostre macchine alla ZTL. Non siamo stati appunto avvisati preventivamente che ci sarebbero state queste modifiche ai parcheggi in modo tale che noi ci potevamo organizzare in merito. Invece così ci dobbiamo organizzare un po' all'impronta, rischendo di prenderci delle multe perché parcheggiamo in zone che non sono noi consentite.